L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto un immediato cessate il fuoco a Gaza per poter vaccinare i bambini palestinesi contro la poliomelite che lì è ricomparsa dopo 25 anni in maniera minacciosa a seguito delle stragi, del genocidio, dei bombardamenti, dell'assedio compiuto dai criminali di Israele che invece continuano imperterriti nei loro delitti. Intanto a Doha si sono conclusi con un nulla di fatto, anche se il buffone Biden dice di essere ottimista, i colloqui che erano colloqui finti perché in realtà un piano di pace era già stato fatto da Biden tre mesi fa, era stato accettato da Hamas ed è stato rifiutato da Israele. Quindi i colloqui in corso si servono a convincere Israele ad accettare non si sa bene cosa. Intanto Israele continua con la sua strategia del massacro, con il suo terrorismo e forse aspetta persino che parta all'improvviso qualche missile dall'Iran per poter dire «Ecco, sono aggredita, adesso voi dovete attaccare l'Iran». Perché la verità è che Israele non solo è criminale, non solo è sostenuto dall'Occidente, ma ricatta l'Occidente. Dice «Voi avete visto cosa facciamo, no? Sì, certo, ma se non lo facciamo ci fanno quest'altro e se ci fanno quest'altro voi dovete intervenire». L'Occidente lo fa perché proprio mentre sta facendo i colloqui di pace Biden ha finanziato di nuovo il governo degli Stati Uniti, ha di nuovo finanziato con miliardi e miliardi di euro le armi di Israele. E d'altra parte tutti i governi occidentali non hanno fatto nulla, non c'è una sola sanzione, non un solo atto. Sì, ogni tanto fanno delle dichiarazioni. L'altra sera i coloni israeliani hanno fatto un pogrom in Cisgiordania, bruciando vive le persone dentro le case. Eppure ci sono stati ovviamente le condanne, ma che conseguenze ci sono? Nessuna. Israele ricatta l'Occidente, dice «Tanto voi mi dovete proteggere». L'Occidente ci sta perché è complice, perché non ha una linea politica alternativa e quindi alla fine vanno avanti. Giustamente l'autorità nazionale della Palestina ha emesso un comunicato, un comunicato non di Hamas, ma dello Stato ufficiale di Palestina, quello riconosciuto dalle Nazioni Unite, che dice «Gli Stati Uniti sono responsabili, come Israele, dei massacri, delle stragi e del genocidio, perché forniscono le armi e perché forniscono l'aiuto». E con gli Stati Uniti c'è l'Italia, c'è la Germania, c'è la Francia, c'è la Gran Bretagna, c'è la Commissione Europea, cioè c'è l'insieme dell'Occidente che in realtà è complice del genocidio. E quello che sta avvenendo in queste ore riconferma questa complicità. Israele uccide e gli alleati italiani, tedeschi, americani e europei la sostengono e la finanziano. Il sostegno a Israele è un crimine. Chi sostiene Israele oggi è un criminale complice del genocidio.